Siamo di iniziative culturali nell'ambito della nostra città e lo facciamo insieme a Tommaso Ardimento, promotore del festival Città di Bari. Benvenuto. Buongiorno agli ascoltatori di Telebari. Tommaso, in cosa consiste questo festival? Allora, questo festival consiste nel reclutare dei giovani talenti, i quali poi disputeranno questa gara in due semifinali e in una finale. In quale contesto? Musicale, attoriale? No, no, è un contesto musicale canoro che inizialmente fino a due anni fa è l'espressione del vecchio karaoke, quindi si chiamava appunto Festival del Karaoke, però dal 2008 è diventato Festival Città di Bari, ho voluto dare a Bari un festival che non c'è. Come si può partecipare a questo festival se esiste un regolamento vero e proprio? Allora, al festival si può partecipare iscrivendosi, quindi chiamando il mio numero telefonico il 392 69 32 065 oppure mandando un'email a araops.ardimentochiocciolattiscali.it Bene, li lasceremo in sovraimpressione per un po'. Questa iniziativa nasce come? Beh, nasce dal fatto che io stesso, sono 35 anni che canto e... Canzoni sue? No, canto delle cover e ho cantato canzoni inedite scritte da mio cugino, il quale saluto in questo momento che è Pippo Ardimento. Per esempio quali cover? Mi dica una insomma la sua preferita. Allora io... Una che canta meglio? Preferisco genere anni 60, da Frebon Gusto a Peppino Di Capri e a quant'altro che in quell'epoca hanno dato alla musica italiana un tocco particolare. Bene, se questa giornata di sole dovesse ispirarle una canzone, quale canterebbe? Beh, io canterei Una rotonda sul mare di Frebon Gusto. Un pezzettino. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Bene, perfetto. Ci voleva giusto per far capire insomma il nostro personaggio, che tipo di passione ha nei confronti di questo tipo di attività che lei svolge da quanto tempo? Che edizioni siamo? Allora, con questa prossima che si svolgerà qui in Piazza Ferrarese, l'8, 9 e 10 luglio siamo arrivati alla nona edizione. E non è poco perché negli anni che sono passati ci sono stati tanti di quei problemi che non voglio qui menzionare. Il festival nasce inizialmente in spiaggia Pana e Pomodoro nel 2002. Dal 2005 ci siamo spostati qui in Piazza Ferrarese dopo aver conosciuto personalmente il presidente della circoscrizione, il quale ha creduto in questa manifestazione e quindi siamo arrivati. Sono ormai cinque anni che si svolge in questa piazza perché lui ci tiene tanto a questo, ma non solo lui, tutta la circoscrizione... E salutiamo Mario Ferrarelli della circoscrizione San Nicola Miura, perché la circoscrizione in qualche modo l'ha incoraggiata a fare questa iniziativa? Sì, mi ha incoraggiato in questa iniziativa affinché potesse negli anni diventare sempre più importante, tant'è che io da cinque anni a questa parte, durante la finale, ma anche nelle altre serate, ho portato con me in questa piazza artisti di un certo livello. Per esempio? Per esempio è stata qui con noi Bambola Ramona, Alessandra Canale, Cledi, Platinette e quest'anno c'è una grossa sorpresa nella finale. No, la sorpresa no, ce lo deve dire. Beh, io qui lo dico e qui non posso confermarla perché voi dovete sapere che gli artisti all'ultimo momento per motivi, per impegni televisivi, possono disdire qualsiasi titolo di contratto, però l'intenzione è di portare qui in questa piazza la serata finale, la conduzione di Fabrizio Frizzi. Ah, bene, un ritorno insomma di un presentatore. Mentre nelle prime due serate che sono le due semifinali avremo il... Ah, Fabrizio Frizzi sa cantare? Abbastanza, lui è anche musicista, lui suona molto bene il pianoforte. L'avete scelto anche per quello? No, non l'ho scelto per quello, l'ho scelto perché comunque è un simpaticone, è amato dal pubblico italiano, certamente anche dal pubblico barese, ma perché comunque è un conduttore che ha portato tanto alla televisione italiana, vedi Miss Italia e quant'altro. Tommaso, andiamo un po' nel clou di questo festival, fino a che età si può partecipare? Da che età si può... Allora, ti spiego subito, quest'anno poiché c'è una novità legata al festival, ho dovuto un attimino ridimensionare alcune situazioni, perché quest'anno il vincitore di questo festival, di questa edizione, andrà di diritto alla finale Festival Contursi di Salerno, 17esimo premio Mia Martini. Quindi, se negli anni precedenti ho fatto salire sul palco anche gli ultracinquantenni, perché era bello vederli, quest'anno purtroppo devo fermarmi a una certa età, e quindi la partecipazione sarà nettamente e prettamente dai 14, massimo ai 40 anni. Oh, ma che peccato però! Magari lì quanti anni ha? Io ne ho 53. Quindi anche lì è escluso dal festival? Non è escluso a priori, ma il problema è legato a questa situazione, perché portando dei concorrenti di una certa età, come ho fatto nelle passette edizioni, non mi dà la possibilità di portare qualche talento nuovo. Tommaso, si deve saper giustamente cantare, ma chi fa le selezioni? Le selezioni le faccio io stesso, perché comunque, poiché ho un'esperienza trentennale di canto, le selezioni le faccio personalmente io, perché io oltre ad essere l'organizzatore di questo evento, sono anche il direttore artistico di tutte e tre le serate, ma non solo di queste, di tutti i miei format. E volevo ricordare al pubblico, ai baresi soprattutto, e a chi mi conosce dalla provincia, che il sottoscritto è detentore di questo format in assoluto, perché è l'unico vero festival a città di Bari, ed è stato appunto messo in scena dall'organizzazione Puglia Spettacolo. Ma difidate dalle imitazioni, se vogliamo, ricordiamo quando? Allora, come dicevo poc'anzi, quest'anno le serate saranno 8, 9, 10 luglio, qui da Piazza Ferrarese, io vi aspetto in tanti, come sempre, è inutile dirlo ogni sera... Dove va? Se ne va indietro? Resti qui! Pensavo fosse finita l'intervista e stavo già andando via, no, scherzavo, scherzavo. E quindi aspetto il pubblico in tanti, ma aspetto anche chi nei paesi limitrofi mi conosce, e senz'altro anche quest'anno ci sarà il pienone in tutte e tre le sere. Bene, quindi se avete il talento del canto, cimentatevi pure al partecipare al Festival Città di Bari. Grazie a Tommaso Ardimenti per essere stato nostro ospite, e in bocca al lupo a voi i partecipanti. Chiudo ringraziando te e ringraziando Terebari, che è l'emittente dei baresi, e mi aggancio giù le mani da Terebari. Grazie ancora. Grazie. Grazie a Tommaso Ardimenti per essere stato nostro ospite e ringraziando Terebari. Paura non ne hai, dici tu, basta.